Musica Ho dovuto un po' improvvisare perché ho deciso all'ultimo momento di riaprire dopo quasi due anni di chiusura e allora ho tirato fuori questa mostra che è una mostra particolare perché sono le fotografie originali che furono esposte alla Galleria d'Arte Contemporanea di Plazzo Quillichini in Corso Italia nel 1974 e sono fotografie proprio originali, chimiche per cui mi è sembrato un'idea abbastanza interessante farla rivedere ai nostri concittadini che infatti hanno al solito risposto con estremo entusiasmo. Sono cambiate tantissime cose, l'Anfiteatro, Guido Monaco, la chiesa di San Michele che non si riconosce e anche Piazza Guido Monaco, quelle bellissime piante intorno al monumento che facevano le panchine di pietra cioè sono anche il parco della rimembranza che circondava la colonna dei martiri del risorgimento per cui è veramente un'altra città. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!